Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video svuota spesa, siamo stati alla Copp, abbiamo speso 64,88€ Abbiamo speso un bel po' e non si è preso praticamente niente, ho preso poca roba Allora, Coca-Cola, questa qui, il pack, come si dice, da 2, Coca-Cola a 0, pagata? 2,19€ Comunque siamo andati alla Copp, perché c'erano per i soci gli sconti delle grandi marche, siamo arrivati e era già tutto vuoto, non c'era già più nulla Comunque abbiamo preso un barattolino di gelato, questo qua la crema della San Montana, buonissimo E questi giorni sto andando avanti a gelato per merenda, per via che mi sono ferata il giudizio 3,25€ Poi abbiamo preso le foglioline di spinaci, 400g pagate 1,19€ Sì, non vale però Impastato di verdura della Copp, pagato 1,65€ 1,65€ E sono 600g Poi ragazzi abbiamo preso queste, queste quelle ho scelte io perché ho visto la pubblicità e mi hanno fatto gola Sono le nuvole, giusto? No No, non sono le nuvole queste È mousse al cioccolato Mousse al cioccolato fondente della Perugina con sottilissime sfoglie Era in offerta 1,19€ 1,16€ 1,99€ però non lo so quanto No, era un'offerta Poi in offerta c'era anche questi qui della Müller in mix Questi sono bianco con nocciola e cioccolato Questo è il prezzo 65 centesimi, 64€ Poi abbiamo preso i gnocchetti tirolesi della Fini Sono 350g, buoni, buoni Questi non erano 1,39€ Non erano in offerta questi Poi la pasta sfoglia della Copp 1,39€ Poi in offerta c'era questo qua Il grana padano Ferrari Pagato 3,99€ E sono 300g Poi della Berretta c'era la pancetta affumicata in offerta 2,57€ 1,69€ Mi pare, sì Pancetta affumicata, sì Serviva quella dolce, eh Non c'era scritto dolce Perché è affumicata? Vabbè, dai, è uguale Poi abbiamo preso i similteneroni Hamburger con prosciutto cotto e mozzarella della Copp Aspetti, quanto è questo? Ah, ecco 1,38€ Poi in offerta c'era il galbanino L'originale A 1,99€ Però Era un'offerta 1,19€ Mi pare anche questo Poi in offerta c'era questi qua dei alliberamenti, giusto? Abbiamo preso solo il prosciutto cotto 1,33€ Abbiamo preso poi il salame Questo però è della Copp Sì, 1€ No, 2€ Quanto è il salame? Non so, l'ho preso te Sono 100 grammi C'è scritto il prezzo Poi in offerta c'era la sfogliavelo della rana Per fare le lasagne, buone Questo sono mezzo chilo No, 250 grammi E questa appunto era in offerta Pagate 1,16€ Quanto veniva la pasta e lasagne? 1,93€ Ma era un po' 1,16€ Più o meno Sì 1,27€ Poi ho preso la zucca Questa qua gialla Già bella tagliata Pagata 1,98€ No, 1,71€ Sì Guardavo quell'altro prezzo Poi la crescenza Copp Ne abbiamo presi due pacchetti da 100 grammi Costa 72 centesimi Si cercava lo stracchino Quello in offerta ovviamente era già tutto finito Quelle gole lì Poi cubetti di prosciutto cotto Beretta 120 grammi Questa era un'offerta no? Sì Sì Non abbiamo pagato 2,17€ Era un'offerta Non mi ricordo quanto veniva Vabbè sullo scontrino non ci sono scritti i prezzi scontati Poi l'aglio Questo aglio secco bianco 1,45€ Poi Poi Preso un broccoletto pagato 83 centesimi Poi di verdura bene o male ce l'avevamo sempre Limoni 2,38€ Poi in offerta c'erano i pannetti Swiffer C'era solo questo qui piccolino da 20 pannetti C'era solo questo qui piccolino da 20 pannetti Tanto che non si riprendono fatti così Questa è un po' che fanno le prezzi Eh Questi qua della Ringo Che io tra l'altro non ho mai sentito Il Ringo Gold Uno con crema al latte E una con crema al cacao E in tutto ce ne sono 6 all'interno Poi Il Cotton Fioc Della Cop Pagati 1€ 1€ E sono 160 bastoncini biodegradabili Poi in offerta c'era il bagno doccia Bagno fiuma insomma della Neutro Roberts Io ho scelto questo qua Beauty con oli dermo rigeneranti Pagato 2,03€ Pagato 2,03€ Poi sapone liquido per ricaricare il dispenser per le mani Per le mani Per il samore per le mani Estratto di avena e burro di cariteno Pagato 1€ e 49 Poi Per Halloween Ho preso questi qua Per Halloween Si chiamano ciocco Halloween Zaini Praticamente sono Nei mini cioccolatini Crunchy Con cereali E te li hai pagati 1€ e 89 Ricoperti di cioccolato al latte 1€ e 89 Eh ma sono tanti Ma sono 4 cioccolatini Ma che cazzo sono tanti Sono messi 5 grammi Non so cosa E' un bellini E poi c'è l'altra parte Cioè abbiamo preso solo queste cose? Cioè c'è qualcosa che non va perché non abbiamo preso nulla Proprio mini mini spesa Sono partiti 60€ 64€ Prossima volta Eurospin Giusto? Sì Andiamo a coppia con le borse dell'Eurospin Se ne prendiamo Vabbè ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E ci vediamo prossimo Ciao 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 Grazie a tutti.